Rientriamo qui in onda dalla piazza di Pomaretto, la piazza del municipio di Pomaretto, dove vi stiamo raccontando di questa marcia delle Vali Valdesi che direi dal punto di vista del giro forse si sta già concludendo, vediamo molti dei marciatori ancora lì nei pressi dell'arco di arrivo, si fanno foto, chiaramente c'è un momento abbastanza di festa. Ha citato in maniera, giustamente non si è messo a delencare tutti quanti i vari enti, i vari organizzatori di questo evento Omar poco fa, a lui abbiamo chiesto dettagli più su questa marcia, su questo percorso, nello specifico su come è andata, ma coinvolti nell'organizzazione di questo evento ci sono anche altre organizzazioni e soprattutto c'è chi si occupa proprio di turismo a Pomaretto in generale, al di là di questa singola data. Per parlarci ne abbiamo Ilenia Quercia, benvenuta su RBA. Grazie mille, buongiorno a tutti, io mi chiamo Quercilenia, sono un'organizzatrice di questo evento della Marcia delle Vali Valdesi, ma in realtà sono una guida escursionistica che promuove il territorio insieme al comune di Pomaretto. Abbiamo provato subito dopo il Covid a promuovere il territorio, a far conoscere il territorio, qui si produce il vino Ramie, noi abbiamo portato gente di tutto il Piemonte, ma non solo, a conoscere i vigneti, a incontrare i produttori di questo famoso vino che si produce solo qui. Abbiamo fatto conoscere non solo questo, ma i sentieri, ce ne sono tantissimi, e in più il volo dell'Angelo che parte proprio da qui, si raggiungono i 120 km orari. E oggi tra l'altro per chi volesse provare il volo c'è anche uno sconto per la promozione di questo territorio. Questa è chiaramente un'ottima notizia, mi sembra di capire che ci sia proprio stata qui a Pomaretto la volontà molto decisa, molto specifica negli ultimi anni per promuovere il comune. Così insomma vedendolo da, non sono proprio di Pomaretto, sono di questa zona qui, però ho notato insomma questa direzione, è stata proprio un percorso dedicato alla promozione del comune. Sì sì, assolutamente sì, tra l'altro siamo proprio nel pieno, con oggi si conclude la settimana della montagna, abbiamo anche invitato tantissimi ospiti, tra cui Donciotti, Cazzanelli che ha scalato il K2. Noi abbiamo praticamente cercato di promuovere a 360 gradi questo territorio, non solo come sentieristica, ma anche a livello culturale. Non so se avete visto prima, c'erano due ragazzi in costume, dove hanno praticamente fatto vedere il costume tipico di questa valle. Qua siamo nella valle valdese e abbiamo ballato tra l'altro con Dino Tron, che avete forse visto e conosciuto, le danze occitanne tutti insieme. Quindi cerchiamo di promuoverlo in tutto, a livello naturalistico, ma culturale e tipico di tutto quello che offre questo territorio. E quindi cosa vi può portare ad esempio un evento come questo, che magari porta persone più interessate alla montagna in generale, al di là dei singoli posti? Come vi viene incontro una marcia delle valli valdesi qui? Sicuramente oggi ci sono più di 600 persone che girano per questi sentieri, moltissimi non conoscevano questo territorio, non conoscevano il vino Rami e l'abbiamo anche fatto degustare sul Ciabot, che è il punto di degustazione che abbiamo ristrutturato da poco, e quindi porterà sicuramente gente a far conoscere questo territorio, che è praticamente piccolissimo, è l'imbocco della Val Germanasca che pochi conoscono, ma che sicuramente in tanti dopo un evento del genere conosceranno e torneranno sicuramente, ci sarà un passaparola ed è quello che noi vogliamo e puntiamo ad avere. In queste cose un passaggio molto complicato che insomma si incontra spesso è quello di poi provare anche ad allargare un po' lo sguardo, provare a non concentrarsi, dico soltanto su Pomaretto, non perché non ci sia chiaramente un interessante, però insomma è bello anche fare rete, provare a guardarsi oltre, insomma è un percorso che avete in vista, è effettivamente complicato. Sì, è complicato sicuramente, anche un po' come è costituito il territorio, ma è quello che vogliamo, l'anno scorso la marcia era a Prarostino, quest'anno a Pomaretto, magari il prossimo anno proprio perché itinerante lo faremo in un altro comune. Noi abbiamo cercato proprio di unirci, infatti tutti gli eventi che facciamo cerchiamo anche di coinvolgere altri comuni vicini, Perosa, Prali, ad esempio oggi è passato anche Perrero la marcia, cerchiamo un pochino di fare rete anche con le strutture ricettive, tutte le strutture che lavorano in questo territorio, anche i prodotti che oggi abbiamo assaggiato e che c'erano nei ristori, la maggior parte sono di produttori locali, il formaggio, il salame, il pane, il vino e così via, quindi è quello a cui puntiamo. Per chiudere quindi, mi hai parlato di attività anche di lungo periodo, ovviamente si va anche al di là di questa singola giornata, per stare dietro, per seguire gli eventi, insomma dove vi troviamo? Sì, noi abbiamo una pagina Instagram e Facebook di Vivi Pomaretto, che è la pagina proprio turistica di Pomaretto, dove ci saranno tutti gli eventi che faremo da qua fino a quando saremo attivi, cioè speriamo per sempre, e anche sul sito del comune di Pomaretto. Noi promuoviamo tutto quello che succede in queste valli, non solo a Pomaretto. Benissimo, quindi insomma i modi ci sono, sono piuttosto facili, grazie mille Elenia, buon lavoro. Grazie mille a voi, arrivederci. Grazie mille a voi, arrivederci.